Asus Zenbook UX31 è il primo di una nuova famiglia di ultraportatili che combinano design, prestazioni, qualità dell'audio e rispetto dell'ambiente. A diagonale di 13,3 pollici ed un profilo così sottile e affilato che sembra una lama. Meno di 3 mm nella parte frontale, solo 17 in quella posteriore. Asus Zenbook non scende a compromessi ed offre prestazioni di alto livello in appena 1,3 kg di peso. Bellezza e forza in perfetta armonia, questo è Zenbook. Bellezza per il design all'avanguardia, con la scocca realizzata da un unico blocco di alluminio e il motivo ha cerchi concentrici sull'elegante cover. Forza perché questo ultraportatile può contare sull'hardware più sofisticato oggi disponibile sul mercato. Processore Intel Core i7 di seconda generazione, unità stato solido SSD da 256 GB con interfaccia SATA 3 e schermo HD retroilluminato a LED. Poi c'è la tecnologia Instant On che gli permette di riattivarsi dalla sospensione in appena due secondi. E in sospensione Zenbook è in grado di restarci per ben due settimane, quattro volte più a lungo rispetto ai prodotti concorrenti. Questo significa che non avrete più bisogno di spegnere o accendere il vostro Asus Zenbook. Potrete utilizzarlo e poi mandarlo direttamente in sospensione, senza preoccuparvi della durata della batteria. Quando vi servirà? Sarà pronto in appena due secondi, come usare uno smartphone. Da acceso, l'autonomia di Zenbook supera le 7 ore, il 25% in più rispetto ad altri prodotti della stessa categoria e abbastanza da coprire l'intera giornata lavorativa. Merito di Super Hybrid Engine 2, la tecnologia di risparmio energetico ideata da Asus. Integrare un audio di qualità in un profilo così sottile era una vera sfida, ma Asus con Zenbook l'ha vinta ed ecco che a bordo troviamo un sistema audio ad alta definizione Sonic Master, sviluppato in collaborazione con Bang & Olufsen Ice Power. Sulla cornice dello schermo invece è collocata una webcam e sul profilo trovano posto un lettore di schede SD e uscite VGA e micro HDMI. L'espandibilità è garantita dalla porta USB 3, mentre sul fronte connettività troviamo il Bluetooth 4.0, il wireless di tipo N e la rete Gigabit. La porta USB 3 di Zenbook ha anche la funzione di ricarica rapida, quindi potrete utilizzarla per ricaricare il vostro cellulare o altri dispositivi. Compatto, sottilissimo e leggero, il nuovo Asus Zenbook UX31 da 13,3 pollici è il compagno ideale per vivere in perfetta mobilità la nuova era digitale.